A tutti buongiorno, oggi il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con vento settentrionale forte in montagna, favonio sulle prealpi a tratti anche sulle zone di pianura che porterà un significativo rialzo delle temperature fino a oltre 20 grade, sulle alpi più nuvole e qualche fiocco in prossimità dei confini elvetici.